Salve amici del Centro Medio Italiano, vasto e robusto campo di alta pressione verso l'Europa. Vediamo allora l'evoluzione attesa con gli ultimi aggiornamenti. Attuale situazione sinottica che vede un robusto anticiclone delle azzorre espandersi dall'Atlantico verso l'Europa Centro-Orientale. Tempo in netto miglioramento nei prossimi giorni in Italia anche se la presenza di una residua goccia fredda in quota porterà ancora qualche temporale pomeridiano, soprattutto sui rilievi. Nella seconda parte della settimana anticiclone disteso sul Mediterraneo con tempo stabile e temperature in aumento. Attesi punte anche di 25-27 gradi soprattutto su pianura padana, zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Puglia. Poche le variazioni anche per il prossimo weekend con un basso campo di alta pressione rimonta verso le isole britanniche che proteggerà buona parte dell'Europa. Trattandosi sempre di tendenze seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.